Musica Buonasera gentili telespettatori, il primo servizio, la nostra apertura ci porta a Pedara, dove un uomo ha tentato di uccidere a colpi di pistola la ex moglie, per fortuna l'arma si è inceppata e poi sono intervenuti i vicini. Vediamo i servizi. Le urla che squarciano il silenzio in un tranquillo pomeriggio di primavera, la paura dei vicini che fa scattare l'allarme, il loro intervento e l'immaginazione che diventa realtà. Davanti ai loro occhi, orrore e sangue. Tentato femminicidio ieri nel tardo pomeriggio a Pedara, in questa villetta di via Frastucheto, alla periferia nord del paese. Un uomo di 87 anni, ferroviere in pensione, originario di Caserta, si è scagliato contro l'ex moglie di 78, nelle sue mani una pistola. Abitava nella dependance di questa residenza, lei invece nella casa principale, al piano di sopra le due figlie, che al momento del tentato omicidio non c'erano. L'anziano, con l'arma nella cintola dei pantaloni, avrebbe raggiunto la donna per un chiarimento. Impossibile accettare che lei avesse acquisito tutti i beni di famiglia, frutto di anni di sacrifici. Da qui la lite, l'ennesima, al culmine della quale l'87enne avrebbe estratto la pistola, una berretta calibro 7,65 con matricola a brasa, ed avrebbe premuto il grilletto con l'intento di uccidere la sua ex, dalla quale ormai era separato da anni. L'arma però si sarebbe inceppata, ma l'anziano non si sarebbe arreso ed avrebbe iniziato a colpire l'ex moglie con il calcio della stessa pistola alla testa. La donna, in preda alla disperazione, sarebbe tuttavia riuscita a divincolarsi e a disarmarlo, eppure con ferocia l'uomo l'avrebbe aggredita nuovamente, stavolta impugnando il bastone da passeggio che utilizzava per camminare. Non contento, le avrebbe pure messo le mani al collo nel tentativo di strangolarla. In realtà è mio figlio che ha assistito alla scena, mi ha detto che ha sentito delle urla, so solo questo, che lui è andato a soccorrere, sentiva delle urla. Sono nostri vicini comunque? Sì, sì, sono nostri vicini, sono nostri amici, sì. Che tipi sono? No, no, tranquilli, in realtà sono brave persone, ovviamente, sono separate. Sul posto i militari dell'arma della stazione di Pedare, della compagnia di Acireale, che hanno trovato a terra la pistola ancora con il colpo in canna, presente anche un'ambulanza del 118 che ha trasportato la 78enne all'ospedale di Acireale. Per lei, ferita al volto e alla testa, ma non sarebbe in pericolo di vita. Rimasta sempre vigile, ha potuto raccontare agli investigatori quanto accaduto, dalle continue vessazioni subite nel tempo dall'ex marito, che dopo essersi trasferito a Caserta era tornato a vivere a Pedara, all'epilogo di ieri pomeriggio, che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. L'anziano è stato portato in caserma ed interrogato sino a tarda sera per lui gli arresti domiciliari in una struttura d'accoglienza privata in attesa della convalida del GIP, l'accusa è di tentato omicidio e detenzione di arma clandestina. E da Pedara a Palermo dobbiamo notare la morte di un 18enne in un incidente stradale, ancora sangue sulle strade. Vediamo. Simone Gnoffo da due mesi aveva compiuto 18 anni. Era in sella alla sua Kawasaki quando si è scontrato con un'altra moto finendo fuori strada. La sua corsa è terminata contro un palo dell'illuminazione pubblica. Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche. Nonostante l'intervento tempestivo del 118 e il trasporto d'urgenza al pronto soccorso di Villa Sofia, il ragazzo è deceduto subito dopo l'arrivo in ospedale. L'incidente mortale è avvenuto ieri nel tardo pomeriggio in via Pietro Bonanno a Palermo, la strada che sale lungo Monte Pellegrino nei pressi del Castello Utveggio. Stando alle prime ricostruzioni della sezione infortunistica della polizia municipale che sta indagando, la vittima indossava regolarmente il casco protettivo. Sulla Kawasaki con Gnoffo c'era un amico che ha riportato solamente due fratture. Il conducente dell'altra moto con la quale è avvenuto lo scontro, una Motron, è arrivato in ospedale in codice giallo. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Un altro incidente mortale si è verificato lungo la statale 187 a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, nei pressi di un rifornimento di carburanti. A perdere la vita, Tommaso Di Giacomo, di 22 anni, il giovane viaggiava a bordo di una Peugeot 208 blu, che, per cause ancora in corso di accertamenti, si è scontrata con una Fiat Panda. Dopo l'impatto, l'auto è uscita fuoristrada finendo la sua corsa contro un muretto e un palo dell'illuminazione. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Restiamo a Palermo, parliamo di rifiuti. C'è un'inchiesta nella quale spunterebbe il nome di Leo Luca Orlando. I particolari. Conclusse le indagini, la Procura di Catania ha notificato gli avvisi di garanzia a 32 persone, verso le quali si ipotizzano, a vario titolo, i reati di abusi nella gestione, trattamento e smaltimento di centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti. Tra gli indagati, nell'inchiesta sui siti di discarica di Valanghe d'Inverno e Tiriti, Tramotta, Sant'Anastasia e Mister Bianco, c'è anche l'ex sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, gli imprenditori della OICOS SPA, Orazio e Domenico Proto, il capo dipartimento della protezione civile regionale Salvatore Coscina in qualità di dirigente generale del servizio autorizzazioni impianti gestione rifiuti. Secondo un capo di imputazione dalla RAP di Palermo, sarebbero stati conferiti nelle discariche gestite dall'OICOS rifiuti urbani indifferenziati e non come frazione secca come previsto per l'inadeguatezza e l'inefficienza degli impianti di trattamento meccanico-biologico fisso e mobile in uso nella discarica di Bellolampo. Questo, secondo l'accusa, avrebbe permesso alle due società di conseguire ingenti guadagni. Sarà mio dovere chiarire, avendo piena fiducia nella magistratura, la legittimità dell'attività da me svolta come sindaco che ha dovuto fronteggiare un'emergenza determinata ad assenza di piano regionale dei rifiuti e di impiantistica pubblica e nello specifico dai ritardi da parte della regione di realizzazione di vasca di sua competenza a Bellolampo, nonostante di fide e sollecitazioni da parte dell'amministrazione comunale. Il commento dell'ex primo cittadino di Palermo, Orlando, candidato alle prossime elezioni europee. Nella lunga lista di indagati, anche alcuni allora dirigenti e tecnici della RAP, i tre commissari nominati dal prefetto di Catania per la gestione della discarica. In carica dal 19 dicembre 2014 al 3 febbraio 2017, Maurizio Cassarino, Riccardo Tenti e Stefano Scammacca. L'avviso di conclusione indagini è stato firmato dai sostituti procuratori, Raffaella Agata Vinci Guerra e Angelo Brugaletta. Gli stessi magistrati avevano chiesto misure personali e il sequestro dei beni alle due società, la RAP di Palermo e Oikos, il GIP. Ha rigettato la richiesta. Restiamo in tema di rifiuti, me lo facciamo andando a Catania, dove Sinistra Italiana questa mattina ha manifestato il suo no per la nascita dell'inceneritore. Inceneritore, no grazie. Con questo slogan la Sinistra Italiana si mobilita per contestare il sito in cui verrà realizzato uno dei due termovalorizzatori isolani deliberati dal governo regionale nella Sicilia occidentale, a termini merese e nella parte orientale dell'isola, nella zona industriale di Catania, in un terreno di proprietà della Sidra, dove stamani gli attivisti della Sinistra hanno incontrato la stampa per manifestare tutto il loro dissenso rispetto ad un impianto che, una volta in funzione, affermano, produrrà percentuale di inquinanti elevatissimi, peraltro collocato in un sito in cui opera una casa di cura ridosso dell'assetti Microelectronics e di altri insediamenti industriali con migliaia di occupati. Siamo nell'ottava strada, in un tratto crocevia di diverse attività produttive e il trattamento dei rifiuti con impianti di incenerimento significa ridurne il volume, ma non il rilascio di inquinanti nell'ambiente. Oltretutto bisogna considerare, lamentano i manifestanti, il trasporto della spazzatura con migliaia di camion che invaderanno la zona, alzando ancora il limite delle sostanze tossiche nell'aria. L'incontro di stamane per lanciare l'allarme coinvolgendo la stampa in futuro sono previste azioni di protesta con manifestazioni e sitine. Innanzitutto la soluzione non è fare a male la gente con una percentuale di tumori in quest'area che è drammatica, quindi da tutto questa non è la soluzione. Il grande assente è un piano regionale sui rifiuti, assente da tempo, manca un orizzonte strategico, manca una visione di una gestione di rifiuti finora sola affidata ai privati, le conseguenze, i costi enormi per i cittadini e il nostro ambiente è devastato. La soluzione qual è? Ristrutturare ancora meglio la differenziata, prevedere un grandissimo periodo di raccolta di tutti i rifiuti che abbiamo, smartirli con nuove tecnologie per il riciclaggio. Tutto questo si può fare, si fa in altri paesi europei e poi lo dico abbastanza banalmente, non si può immaginare di trasformare la Sicilia nella riscarica del paese. La sinistra italiana dunque affila le armi per dire no all'inceneritore della zona industriale di Catania, ragioni supportate da uno studio presentato da Zero Waste Europe Network di associazioni nazionali, sostenute dagli ambientalisti. Domani festa della Repubblica, il 2 giugno a Catania, questo pomeriggio assegnate diverse onorificenze. Vediamo. Nella pomeriggio a Catania il Dio alle celebrazioni per il 78esimo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana con la consegna delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Onorificenze che, così come voluto dal prefetto Maria Carmela Librizi, sono state consegnate dai ragazzi dell'orchestra e coro di musica insieme al Librino, alla cerimonia a cui hanno preso parte le massime autorità cittadine, ha fatto seguito il concerto per la Repubblica dell'orchestra del Teatro Massimo Vincenzo Bellini, diretta dal maestro Francesco Di Mauro. Un primo sentito appuntamento per celebrare il 70esimo anniversario che ha messo in risalto ancora una volta gli esempi positivi. Però ci sono tante cose che veramente danno lustro alla nostra comunità e quindi bisogna che siano conosciuti. E prosegue il binomio che lei ha sempre più radicato qui a Catania, le cerimonie istituzionali devono essere sempre presenti i ragazzi. Assolutamente, ormai diciamo un mio, come dire, intentimento, non posso non esserci perché bisogna in qualche modo sempre dare ai ragazzi esempi, esempi positivi ma soprattutto avvicinarlo a quelle che sono le nostre feste, la nostra Repubblica. Quindi i ragazzi devono e saranno ancora stasera i ragazzi a consegnare le onorificenze agli insegniti. Le onorificenze di Cavaliere al Merito della Repubblica sono state consegnate ad Antimo Arpaia, luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, a Carmelo Bonanno, primo luogotenente della Capitaneria di Porto, al professor Pierluigi Catalfo, professor ordinario dell'Università di Catania, alla dottoressa Agata Cosentino, conservatore a Salvatore Impieri, primo luogotenente della Capitaneria di Porto, al dottor Giuseppe Longo, luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, a Giuseppe Musumarra, luogotenente della Guardia di Finanza, a Stefano Platania, ispettore superiore della Polizia di Stato, al dottor Francesco Puglisi, dirigente del Ministero dell'Interno, a Dorazio Rapisarda, ispettore antincendio, esperto dei Vigili del Fuoco, a Concetto Gaetano Ottatì, bigliadiere della Guardia di Finanza, al dottor Gennaro Tramontano, tenente colonnello della Guardia di Finanza. Restiamo a Catania per partecipare ad un evento molto importante sul piano culturale, il Caravaggio a Catania, oggi in augurazione. Vediamo. Un taglio del nastro che segna due grandi notizie. La prima, la riapertura dell'ex monastero Santa Chiara di Via Castellorsino, che diventa il polo museale di Catania. La seconda, quale migliore debutto del restaurato edificio comunale, se non una mostra d'arte a carattere nazionale, che racchiude il periodo fondamentale dell'arte europea della fine del Cinquecento alla prima metà del Seicento con le opere di Caravaggio. Accade a Catania, nel primo giorno di giugno, che con l'anteprima di Caravaggio, La Verità della Luce, tuffa la città tra i grandi poli culturali d'arte della nazione. La mostra, curata da Pierluigi Carofano, organizzata dalla Comune, quindi da Metamorfosi e Demetra Promotion, è una straordinaria esposizione che riunisce 35 opere del celebre pittore Lombardo, provenienti da collezioni pubbliche, private, italiane e straniere, anche mettendo in mostra il San Sebastiano del Castello Ursino. Oltre alle opere del maestro, vi è pure una ricca selezione di dipinti, di artisti, come Orazio Gentileschi, Guercino, Annibale e Ludovico Carracci, che subirono di certo l'influenza di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, il sindaco Enrico Trantino. Catania è una città con il sole raggiante, ma che nonostante questo ha vissuto nella penombra per tanto tempo, quindi questo squarcio di luce che ancora una volta si raffiora dalle tenebre con questi dipinti di Caravaggio sono un'ulteriore occasione per dare un poco di positività. La mostra racconta anche l'eredità di Caravaggio in Sicilia, dove trascorse circa un anno prima di trasferirsi a Napoli e dove ha lasciato opere di straordinaria intensità a Siracusa e a Messina. Opere di Caravaggio meravigliose, alcune mai viste, come San Sebastiano che ha alle mie spalle, che è l'icona di questa mostra, e poi opere che vengono dalle gallerie degli uffizi di grande potenza, per esempio il Cavadenti, l'espressione è un'opera in cui i soggetti sono soggetti del popolo, che entrano nell'arte, insomma, con Caravaggio avviene questa rivoluzione, che il popolo entra nell'arte. La mostra aprirà battente al pubblico domani 2 giugno, l'esposizione resterà aperta sino alla 6 ottobre. E dal Caravaggio alla cultura pop, rappresentata da Etna Comics, vediamo. Dalla 6 al 9 giugno Catania si trasforma, torna infatti Etna Comics, edizione 2024, la dodicesima della serie cultura pop, ma anche festival internazionale del fumetto, del gioco e di tutte le nuove tendenze che segnano il mutare dei tempi, è che Etna Comics incornicia in un lungo, lunghissimo weekend, che sarà vissuto non solo all'interno delle cimilere, ma, novità di quest'anno, anche nella plazza di Etna Comics, cioè piazza Giovanni XXIII, e nel tunnel della metropolitana di Catania, attivo alla esplosione di colori, sapori, emozioni, musica, fumetto di Etna Comics, con DJ set e grandi marchi nazionali. Il tempo si ferma, dunque, su Etna Comics, si entra nel mondo del fantastico. La parte divertente, la parte rilassante, è forse la parte più interessante della vita di una persona, e quindi ci arroghiamo questo diritto, questo pensiero di essere quasi indispensabili, se vogliamo, per moltissimi giovani. D'altronde sono quattro giorni, è un evento concentratissimo, è una cosa attesa, dovremmo ricuscire un attimino il nostro sottotitolo da festival internazionale del fumetto, del gioco, è un festival di cultura pop. Tutto parte dal fumetto poi, cosplay, centinaia di attività, tra mostre, proiezioni, masterclass, conferenze, esclusivi meeting. Io sono stato tante volte a Etna Comics, ma tutti questi giovani li vedo ovviamente, ma avete anche tante persone, diciamo, diversamente giovani. Beh, chiaramente sì, consideriamo che per esempio la parte del collezionismo è una delle sezioni più vive e popolate di Etna Comics, cioè il collezionismo da noi ha un riscontro importante. Per collezionare devi essere un po' più grande, quindi vuol dire che ci sono tante persone più grandi che per esempio ci raggiungono, sì. Tanti big che animeranno l'edizione 2024. Torna a Zero Calcare, che ha realizzato il manifesto dedicato a Luigi Pirandello, poi Dariq Robertson, Mirka Andolfo, Esther Cardella, Matteo Boca, Leventose, Loremon, i fallimenti critici, Francesco Centorame, Ross Mullan, Mauro Graiani, Nino Frassica. Mentre l'influencer disabile tra le più seguite d'Italia, Nadia Lauricella, sarà la testimonia alla speciale di questa edizione. Quindi la raccolta per beneficenza e il premio Angelo D'Arrigo, tra gli eventi non certamente collaterali. Adesso a Nicolosi, dove si è assegnata la premiazione per il concorso intitolato alla piccola Laura, uccisa anni fa dal padre. Vediamo i particolari. Un progetto finalizzato alla riflessione su temi assai importanti come quelli del femminicidio, che possa essere anche espressione delle idee e del linguaggio delle nuove generazioni. Il tutto dedicato alla piccola Laura, uccisa anni fa dal padre a San Giovanni La Punta. A promuovere l'iniziativa, la madre Giovanna Zizzo, con il coinvolgimento delle scuole, che hanno realizzato dei disegni proprio inerenti alla tematica. Stamattina a Rifugio Sapienza. La semplice ma intensa cerimonia di premiazione. Come associazione Laura Vive Me ha indotto un primo concorso che si intitola Laura intorno a noi. Hanno aderito a diverse scuole. La vincitrice oggi è qui, è del paese di Randazzo. Il loro disegno sarà esposto qui per un anno. È stata una bella esperienza. Faticosa ma bellissima. Poi i ragazzi attraverso la storia di Laura si sono immedesimati nella sua storia. e hanno descritto ciò che sentivano dentro di loro. E si vede attraverso i disegni che hanno fatto. Ad aggiudicarsi il primo posto in occasione della prima edizione del concorso Laura intorno a noi è stato l'Istituto Statale del Mondo dei Amici di Randazzo, grazie all'opera realizzata da una studentessa di seconda A e che sarà adesso esposta permanentemente a Rifugio Sapienza. Cosa esprime questo tuo disegno? Allora, io innanzitutto ho deciso di rappresentare Laura in questo modo, nella maniera più semplice, proprio per mettere in primo piano le cose più belle, ricordiche, sono soprattutto le cose che mai verranno cancellate dalla mente delle persone. Soprattutto perché Laura rimarrà nei cuori di tutte, anche se nessuno conosce un po' la sua storia. Un messaggio che viene lanciato soprattutto a voi, giovani? Sì, soprattutto perché non è la prima volta che si sentono dire cose del G.E. la cosa che ci ha colpito di più e soprattutto che aveva la nostra età è l'azione del padre solamente per vendetta. E adesso lo sport, il Catania vuol fare sul serio per il prossimo anno e lo fa grazie anche al nuovo direttore sportivo. Vediamo. Il messaggio lanciato dalla dirigenza rossa-azzurra è certamente incoraggiante. Un primo tassello in vista della nuova stagione, dopo la recente delusione con l'eliminazione dai play-off promozione. Il club rossa-azzurro ha ingaggiato il nuovo direttore sportivo. Si tratta della navigato Daniele Faggiano, esperto nel raggiungimento di risultati importanti, con altre società nel recente passato. Proprio a lui si affida il club rossa-azzurro, nell'ottica di una stagione la prossima, che si spera possa vedere la Catania in asse di partenza con l'obiettivo della promozione diretta. Faggiano non ha bisogno di molte presentazioni. Il suo curriculum parla da sé e lo attende un lavoro già impegnativo. Nella composizione dell'organico in vista del prossimo campionato di Serie C, il passo successivo ad esso sarà l'ingaggio del nuovo allenatore. In tal senso è caldissima la pista che conduce a Toscano. Il mister che nella stagione appena conclusa ha condotto trionfalmente il Cesena tra i cadetti e che rappresenta più di una garanzia per la categoria. Fissata anche la sede del ritiro precampionato che si terrà ad Assisi in Umbria a partire dalla metà di luglio. Insomma, si sta cercando di mettere ogni tassello al suo posto per regalare alla tifoseria etnea le giuste soddisfazioni. Primo nodo da sciogliere. I tanti calciatori attualmente in organico, molti dei quali dovranno cambiare aria, malgrado ingaggi pluriannali. Sarà certamente questa una prima gatta da pelare per Raffaggiano, che dovrà poi passare alla fase operativa, portando ai piedi dell'Etna, di concerto col nuovo allenatore, quei calciatori in grado di comporre un roster vincente. E finisce qui il nostro appuntamento. Vi auguro una buona serata. Vi ricordo il Tg domani alle ore 14. Buonasera. 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 Buonasera.